Ciao a tutti, io sono Magno e oggi vi faccio vedere come si fanno gli origami, cominciando... No, aspetta, ancora, devo farla piano, dai! Comincia, uno, due, tre, vai! Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come si fanno gli origami, cominciando prendendo una matita, dei colori e delle forbici e un foglio. Dopo aver preso un foglio, prendete una metà del foglio e prendetelo da qui. Poi tagliate questa parte. Dopo aver tagliato, apritele, ci sono due triangoli. Adesso prendete questa punta e portatela da qua. E adesso abbiamo quattro triangoli. Adesso ho tutte queste quattro punte, cioè uno, due, tre, quattro portateli in mezzo. Poi avete questo. Poi giratelo. Poi in queste punte, le portate qua. Prima di farlo dovete... Tipo un cartelletto. Adesso, apritele e portate le punte qui. Adesso aprite, girate e aprite il ruolo che abbiamo fatto prima. Poi, dopo averla aprite, piegatelo. Poi, dopo averla aprite, piegatelo. Poi, apritele e mettele, dice, qui. Parate, piegatelo. E a fin Adesso lo aprite e colorate come volete e qui ci scrivete le vostre parole come volete. Punto. Finito? Sì. Dirle grazie. Grazie. Ciao.